Che succede? Che combini? Niente di che. Odio pensarti laggiù, sempre da solo. A bere. Sto bene. Grazie. Ma... sto bene. Ti starai chiedendo perché ti ho fatto venire qui. Il nostro coach di basket ha avuto un infarto. Mi serve un altro coach. È una buona squadra? No, gli ultimi play-off li ha fatti quando ci giocavi tu. Forza in linea! Sei Marcos, giusto? Sì, giusto. Quanti tiri da tre ha segnato l'anno scorso? Meno del 26%. Sai perché non ti marcano? Pensano che non sai centrare l'oceano dalla spiaggia. Ti ha sputato la verità dritta in faccia, bro! Allora, ti piace fare il coach? Mi sto abituando ai giocatori. Quali giocatori? Ho sentito che fai il coach di basket. Sì, mi tiene occupato. Non mi fa pensare ad altre cose. Ho passato molto tempo a farmi del male. Ho preso decisioni sbagliate. Ho molti rimpianti. Quando siamo a rischio, voglio che fai quel tiro. Perché non riesci a crederci? A cosa? Che sei il migliore della squadra. Sì! Così! So che stai soffrendo. Voglio solo che torni a essere felice. Ma devi volerlo anche tu. Fate pressi. Raddoppiate. Mantenete il controllo. Ve la siete guadagnata stasera. Sato! Anche tre! Uno, due, tre! Marta! Sato! 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 Sato!